Buonasera ai telespettatori di Red, buonasera ai telespettatori di Malacoda. Malacoda è una nuova trasmissione settimanale che debutta questa sera della televisione Red. Partirà dai fatti della cronaca, ma non per discutere della cronaca, per discutere di valori, di etica, di cultura, di filosofia, di cosa sta succedendo nell'animo profondo della società italiana. La società italiana è malata, è turbata, ha al suo interno una grande sofferenza. Malacoda è un diavolo dantesco, compare nel ventunesimo canto dell'inferno e in qualche modo è un diavolo buono, perché a differenza dei suoi subalterni consiglia Virgilio e Dante per il peregrinare successivo nelle bolge dell'inferno. Poco importa se alcuni di quei consigli si sono rivelati mendaci. Ma noi abbiamo preso questa immagine del diavolo Malacoda per contestare un po' alla radice questo clima che nel nostro paese si è creato tra Guelfi e Ghibellini, che quasi rende impossibile una discussione pacata su alcuni temi. Malacoda sarà anche un blog con un proprio indirizzo a cui voi potete scrivere e noi dialogheremo e faremo intervenire in questo modo i telespettatori di Red e di questa trasmissione.